La nostra fiera agricola di San Martino vanta antiche tradizioni e ci fa piacere pensare che proprio da quest'anno parta con comunità di pratica, di sentieri e saperi, senza barriere, possa partire veramente un progetto di territorio che coinvolge non solo la città di Cirie, ma tanti comuni della nostra zona, delle nostre valli di Lanzo e coinvolga tantissimi soggetti, tra cui la Regione, Caritas Diocesana, Compagnia di San Paolo e tanti altri partner anche di realtà locali, affinché veramente l'unione di tutti questi soggetti possa dare vita ad un progetto di promozione locale, di promozione commerciale, agricola e anche di crescita sociale, oltre che di promozione della cultura e della tutela dell'ambiente. La Gorà del Sociale nelle valli di Lanzo ha preso la forma del progetto Comunità di Pratica. Vogliamo offrire a delle persone in difficoltà delle occasioni per trovare uno spazio professionale che insieme a risolvere i loro problemi vitali offrano al territorio una possibilità di sviluppo.